Benvenuti su Ultima Hora News. Nel video di oggi parleremo del tristissimo annuncio riguardante l'incidente aereo che, qualche giorno fa, ha coinvolto la famosa cantante Angelina Mango. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Angelina Mango, ultima vincitrice del Festival di Sanremo, ha subito un incidente aereo mentre stava tornando da un concerto a Napoli. L'incidente è avvenuto durante la discesa dalle scale dell'aereo, quando è caduta a causa dei numerosi oggetti che stava trasportando, provocandosi alcune ferite. Per fortuna, ha riportato solo lievi escoriazioni e una contusione al ginocchio, evitando conseguenze più gravi grazie alla sua prontezza. Ha rassicurato i fan con queste parole, il dottore mi ha detto che sono molto flessibile quindi fortunatamente non mi sono rotta nulla. Ho solo una lieve tendinite, non posso correre ma dopo qualche giorno di riposo potrò tranquillamente tornare alla mia vita di sempre. La cantante ha espresso un grande sollievo per non essersi fatta male gravemente e ha ricevuto numerosi messaggi di supporto e affetto da parte dei suoi ammiratori. Se tutto procederà per il meglio, Angelina tornerà ad esibirsi dal vivo il 13 luglio a Vicenza, riprendendo così la sua attività artistica senza ulteriori intoppi. La cantante è molto popolare anche grazie al suo nuovo singolo, Melodramma, che attualmente domina le classifiche musicali italiane. Nonostante la caduta, il suo successo continua inarrestabile, dimostrando la sua determinazione e il supporto del suo pubblico. Una foto di lei a letto con il ginocchio fasciato ha generato moltissimi commenti affettuosi e di pronta guarigione da parte dei suoi fan sui social media. Nonostante lo spavento iniziale, Angelina è ottimista riguardo alla sua guarigione e conta di riprendersi completamente presto, continuando a regalare emozioni con la sua musica. E tu cosa ne pensi di Angelina Mango? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.